Per pianificare un viaggio, iniziare toccando Navigazione sulla schermata Home, oppure selezionare l'icona Navigazione. Viene visualizzata la schermata della mappa con la posizione attuale. Per visualizzare le opzioni del menu principale del sistema di navigazione, toccare l'icona del menu con i sei quadratini. Dal menu delle opzioni, selezionare Cerca. In alternativa, toccare il tasto di scelta rapida Imposta destinazione sulla schermata Home. La ricerca può essere effettuata in due modi. Il primo consiste nella ricerca a un campo. Il metodo alternativo per utilizzare la schermata Cerca consiste nell'effettuare la ricerca per categorie di punti di interesse. Selezionare dall'elenco di categorie disponibili. Per usare il metodo di ricerca a un campo, toccare la casella Cerca per attivare la tastiera e inserire la destinazione. Se non si conosce il nome completo o l'indirizzo, è possibile visualizzare l'elenco dei risultati della ricerca. A tal fine, toccare l'icona per nascondere la tastiera. Per continuare a inserire il testo, premere nuovamente la casella Cerca. Quindi, selezionare Invio. Se la posizione visualizzata è corretta, toccare Inizia per avviare la navigazione alla destinazione selezionata. Per visualizzare gli altri percorsi suggeriti, toccare Opzioni itinerario prima di selezionare Inizia. Selezionare il percorso desiderato e toccare Inizia per iniziare la guida verso la destinazione selezionata. Sullo schermo viene visualizzato il percorso selezionato con l'ora di arrivo stimata, la restante distanza da percorrere e il tempo stimato per raggiungere la destinazione. Il percorso guidato può essere annullato selezionando il pulsante Interrompi guida nel menu principale o, in alternativa, premendo il tasto di scelta rapida, Annulla navigazione sulla schermata Home. Questo tasto di scelta rapida è rappresentato da un'icona con una bandierina con una barra sopra. È possibile immettere una destinazione anche in altri modi. Per utilizzare questi metodi, andare al menu Navigazione principale oppure cercare semplicemente la mappa e toccare la destinazione desiderata. Per ulteriori informazioni su queste e altre funzioni, consultare il manuale dell'utente. Per dubbio o assistenza, contattare il concessionario Jaguar Land Rover, che sarà ben lieto di aiutarvi. Per dubbio o assistenza, contattare il manuale dell'utente. 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 Per dubbio o assistenza, contattare il manuale dell'utente.